Musica Approvato il bilancio di previsione a rapallo, invariate le tariffe e le agevolazioni fiscali. Per l'estate è prevista la sospensione dei cantieri, arrivate le prime travi per la copertura del San Francesco. Sulla riorganizzazione della rete ospedaliera interviene il Comitato Assistenza Malati Tiguglio. Indietro di tre anni rispetto alla nostra proposta è necessaria per potenziare la sanità. Dal Libano alla Terra Santa fino al Sudafrica sono state selezionate le mete dei pellegrinaggi diocesani per il 2019. Per ogni viaggio al centro l'incontro con le comunità locali. Fare politica con la P maiuscola, invito ai giovani formulato dal Papa e ripreso a Lavagna nel dibattito organizzato dalla consulta diocesana di Pastorale Giovanile. C'è una rete per sostenere le mamme. L'ASL4 l'ha presentata nel corso di un convegno a Chiavari. Fondamentali i sostegni per prevenire la depressione postpartum. Compie due anni il centro di raccolta e il mercato del riuso di Sestre Levante. Nel 2018 quasi 11.400 persone hanno portato e ritirato oggetti altrimenti destinati alla discarica. Oggi la festa con i bimbi. Debuto questa sera nel palinsesto di Telepace per lo scrigno delle perle. Viaggio nella storia e sul territorio del Tiguglio e non solo curato da Francesca Marini. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. La politica amministrativa è in apertura nel nostro telegiornale. Con i voti della maggioranza e i due contrari, i consiglieri Tassara e Mele, il Consiglio Comunale di Rapallo ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021. Nel documento contabile non è previsto alcun inasprimento delle tariffe fiscali. Confermate anche le agevolazioni e la non applicazione dell'addizionale IRPEF. La seduta si è chiusa dopo 5 ore di discussione. Vediamo. Chi si astiene? Nessuno. Chi vota contro? Due. In particolare Tassara e Mele. Chi vota a favore? I restanti 12. La pratica è approvata a maggioranza. Con i voti della maggioranza, il Consiglio Comunale di Rapallo ha approvato uno degli atti amministrativi più importanti, il bilancio di previsione 2019-2021, che delinea la programmazione e le linee di indirizzo del prossimo triennio. Ad illustrare documento contabile i membri di Giunta, in particolare l'assessore Alessandra Ferrara, con delega il bilancio alla programmazione, e Arduino Maini, assessore ai lavori pubblici per l'aggiornamento del DUP, documento unico di programmazione. Il bilancio chiude con un pareggio di 42.256.268 euro. Le voci più consistenti per quanto riguarda le uscite sono la spesa corrente pari a 30.662.000 euro e la spesa in conto capitale di 6.679.000 euro. Sul fronte della pressione fiscale nessun inasprimento per i cittadini rappallesi. L'amministrazione ha confermato per il prossimo anno le stesse tariffe già in vigore, sia per quanto riguarda Imo, Tari e Tasi, con tutte le agevolazioni già previste e non è stata introdotta l'addizionale IRPEF. In merito alle opere pubbliche, la città ha già attivi in questo momento circa 37 cantieri che andranno via via completandosi nei prossimi mesi. A fine marzo inizio aprile, con l'approvazione del conto consuntivo, si potranno programmare nuovi interventi sulla base dell'avanzo di amministrazione. L'ampio dibattito in Consiglio Comunale è stato proprio concentrato sui lavori e i conseguenti disagi per viabilità e le criticità dovute ai rallentamenti dell'attuazione degli stessi. A sollevarlo i due consiglieri di minoranza presenti in aula, Paola Tassare e Mauro Mele. La rassicurazione in merito è che per il periodo estivo i cantieri saranno sospesi per poi riprendere il loro corso a settembre. Nel frattempo, da questa mattina sono arrivate a Rapallo le prime travi che serviranno alla copertura del torrente San Francesco. Con la loro apposa si andrà, sebbene sono in parte, a risolvere le criticità aviarie riaprendo il tratto del lungomare rapallese. La cronaca ci porta in Val d'Aosta. Tre giovani, due di Chiavari, uno di Lavagna, sono rimasti feriti nell'incendio di una mansarda divampato questa mattina a Dantei Sant'Andrè in Val d'Aosta. Il rogo è scoppiato verso le 5 e un quarto al terzo piano di una palazzina nel centro del paese. La notizia che viene riportata dal sito dell'Ansa. La più grave è la ragazza di 21 anni, chiavarese, ricoverata all'ospedale di Aosta in rianimazione. Lei e il fidanzato chiavarese di 24 anni si sono visti intrappolati dalle fiamme e hanno cercato di fuggire calandosi dalla finestra. L'obiettivo era di aggrapparsi ad uno dei balconi sottostanti ma stando alle prime indagini dei carabinieri la ragazza è caduta sbattendo il capo sul selciato. Non sarebbero invece preoccupanti le condizioni di salute del ragazzo. Il terzo giovane, un 22enne, è riuscito ad attraversare il muro di fiamme e scendere le scale riportando così un'intossicazione da fumo. Le cause sarebbero accidentali ad indagare sul fatto carabinieri e vigili del fuoco. Torniamo nel Tiguglio. Parliamo di sanità. In questi giorni sono stati aperti nuovi cantieri per la riorganizzazione della rete ospedaliera dell'Asl4. In particolare i trasferimenti riguardano alcune specialità attualmente ospitate all'ospedale di Sestri Levante che saranno trasferite a Lavagna. Sull'argomento interviene oggi il Comitato Assistenza Malati Tiguglio che in anticipo sul piano sanitario regionale aveva già tre anni fa proposto l'attuale schema di razionalizzazione dei servizi sanitari. Sentiamo. Il Comitato Assistenza Malati Tiguglio plaude all'avvio della riorganizzazione della rete ospedaliera dell'Asl4 rammentando tuttavia che la proposta del Comitato stesso risale ad almeno tre anni fa e che se fosse stata ascoltata tutto il comparto sanitario del Tiguglio beneficerebbe già degli effetti della razionalizzazione dei servizi. Nessuno ha ricordato questo fatto. Noi non vogliamo nessun merito naturalmente però diciamo che se si faceva quando noi abbiamo proposto questo progetto avremmo guadagnato tre anni. Quello avviato in queste settimane è solo il primo tassello di un progetto che punta adottare l'ospedale di Lavagna di tutti i reparti necessari per diventare un DEA di primo livello. Quando il piano sarà completamente attuato ogni struttura ospedaliera avrà il suo ruolo ben definito e funzionale. Per Sestri Levant la vocazione dominante sarà quella di un centro riabilitativo. Ma certo diventerà un grande centro riabilitativo. C'è un progetto molto all'avanguardia quindi anche i sestresi dovrebbero essere contenti di questa situazione di questa idea perché porterà grandi risultati a Sestri Levanti. Il Comitato caldeggia anche la nascita delle case della salute che potranno offrire servizi sul territorio immediati. Se si realizzasse la casa della salute che è quella struttura dove ci sono tutti i medici di famiglia e tutti gli altri medici della guardia medica c'è praticamente un pronto soccorso 24 ore su 24. Quindi Sestri Levanti avrebbe la sua casa della salute col suo piccolo pronto soccorso. Rapallo lo stesso. È inutile che vadano a chiedere la luna. È semplice. Basta realizzare la casa della salute. Certo che non bisogna avere interessi politici e quindi bisognerebbe essere astratti da questo tema. E botta e risposta fra il consigliere regionale del Partito Democratico Luca Garibaldi e la direzione dell'Aso del 4 Chiavarese in merito alla riorganizzazione della rete ospedaliera. Garibaldi critica il fatto che i reparti siano già stati portati via da Sestri Levanti ma per riempire gli spazi rimasti vuoti serviranno tempi lunghissimi a causa dei vincoli previsti dal codice degli appalti. Secondo Garibaldi è stata attuata una politica dei due tempi. In una nota la direzione dell'Aso del 4 rassicura invece che in merito alla tempestività, alla correttezza e alla trasparenza del percorso intrapreso sottolineando come l'ospedale di Sestri abbia ricevuto le stesse attenzioni programmatorie degli altri ospedali. Le attività legate alla riorganizzazione sono fra loro strettamente connesse. Nella nota della ASL si legge che tutti i tempi previsti per le procedure e gli investimenti sulle strutture sanitarie sono stati assicurati e la rete ospedaliera di ASL 4 prevede una programmazione organizzativa efficace e senza buchi. Al momento sono in corso le procedure per l'affidamento dei lavori su tutte le strutture per un ammontare complessivo pari a circa 8 milioni e 700 mila euro di cui oltre 3 milioni nell'ospedale di Sestri Levante. Andiamo adesso sul sito di Vatican News per un aggiornamento sulla giornata che si sta svolgendo, la terza giornata per le vittime di abuso. Dio di misericordia, donaci il coraggio di dire la verità e la sapienza per riconoscere dove abbiamo peccato. Riempisci di pentimento sincero e donaci il perdono e la pace. Con queste parole Papa Francesco ha introdotto la celebrazione penitenziale a conclusione della terza giornata dell'incontro sulla protezione dei minori nella Chiesa. Uno dei momenti più toccanti nella sala regia è stata la testimonianza di una vittima di abuso. L'umiliazione più grande precisa che un individuo possa subire. Ai presenti l'uomo latinoamericano ha chiarito la solitudine e a cui sono condannati i sopravvissuti che senza volerlo si trovano a vivere due vite e che subisce una violenza spiega è costretto a vivere con un fantasma. Non c'è sogno senza ricordi di ciò che è successo. Torniamo in diocesi. Prosegue la visita pastorale del Vescovo per gli ambiti del vicariato Sturla e Graveglia. Domani mattina alle 11 nella chiesa di Sant'Antonio di Ponturi a Nemo. Un signor Alberto Tanasini presiderà la celebrazione eucaristica per tutti i fedeli dell'ambito. In occasione amministrerà il sacramento della Cresima. In serata poi alle 19 al villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno si terrà l'incontro con i giovani del vicariato preceduto dalla cena. E l'ufficio pellegrinaggi della diocesi di Chiavari propone un nuovo programma di viaggi per il 2019. Il primo sarà in Libano e si svolgerà dal primo all'otto di aprile. Per prenotarsi c'è tempo sino al 28 di febbraio contattando l'ufficio di Curia il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12. Sentiamo. Qual è lo spirito con cui ci si mette pellegrini per scoprire nuove mete? All'inizio dell'anno abbiamo cercato come pellegrinaggi di Cesani per la diocesi di Chiavari di pensare anzitutto alla fonte e all'origine per cui ci muoviamo. E subito mi è venuto in mente un inno, un inno delle Lodi che recita così, un canto nella notte nella ricerca di un volto il volto del mistero. Ed è proprio lì, forse in una maniera anche inconsapevole che ci muoviamo, che diciamo perché no, proviamo ad andare. Ed è così tutte le volte che noi non teniamo a bada il nostro desiderio il nostro desiderio di assoluto, di ricerca la volontà di esplorare, di andare fino in fondo di stare al centro della situazione per poterla conoscere perché soltanto chi ascolta conosce e non chi è mosso da un pregiudizio. Ecco, a luce di questo abbiamo ideato tre pellegrinaggi al momento, probabilmente poi ne nasceranno altri. Il primo in ordine di tempo è il Libano che sarà dall'1 all'8 di aprile successivamente torniamo in Terra Santa questa volta con un percorso totalmente nuovo affiancato alla Giordania andremo subito ad Ammanne da lì Petra, che è subito un grande richiamo all'uadirum, con la notte sotto le stelle, nelle tende poi attraverso Acaba faremo anche rientro dopo aver conosciuto anche altre situazioni Ceras, il Monte Nebo, faremo rientro nella Terra Santa nella Terra di Gesù partendo dal basso, quindi salendo da Ebron Masada e quindi Gerusalemme, Betlemme, Tel Aviv, Emmaus il nostro percorso poi si concluderà a fine anno ad ottobre con il Sudafrica andando proprio a conoscere delle realtà delle situazioni anche molto diverse dalle nostre perché se dobbiamo dire qual è il cuore del nostro pellegrinaggio è proprio andare in ricerca del mistero di sé e dell'altro qualsiasi altro, in qualsiasi percorso egli si muova Tutte le informazioni sui pellegrinaggi si possono raccogliere anche sul sito recentemente rinnovato pellegrinagiodiocesichiavari.it Nel 2018 sono entrate 114 nuove cause di richiesta di novità matrimoniale una trentina in meno rispetto al 2017 notizia che andiamo a leggere anche sul nostro sito internet teleradiopace.com nel 2018 sono giunte al termine 146 cause di nullità questo dato ci permette di poter dire che le cause hanno un'accelerazione ossia un percorso più breve lo ha detto Monsignor Paolo Rigon vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Ligure che quest'anno quest'oggi ha presieduto l'inaugurazione dell'anno sul piano pastorale ha aggiunto preoccupo al calo delle cause introdotte da una parte c'è il calo del numero stesso dei matrimoni anche civili dall'altra c'è un grosso calo di sensibilità religiosa che non fa sentire alcun tipo di disagio nei nostri fedeli che si separano come se questo fosse una banalità nel 2018 a Genova sono state concluse 71 cause e ne sono state introdotte 64 al Benga rispettivamente 20 e 13 a Chiavari 9 quelle introdotte e 9 quelle concluse Fate politica con la P maiuscola è l'invito che Papa Francesco ha formulato in occasione della festa per i primi 150 anni di vita di azione cattolica un invito alto e forte che riguarda tutti ma in modo speciale i giovani e che la consulta diocesana di pastorale giovanile in continuità con il lavoro intrapreso dal sinodo dei Vescovi ha ripreso con un convegno organizzato a Lavagna con quattro testimoni che hanno dialogato con i giovani vediamo il servizio Cosa significa fare politica con la P maiuscola? È innanzitutto dare una disponibilità per gli altri è leggersi e leggere l'altro all'interno di una società e leggere la società al contesto cittadino il contesto regionale e nazionale come il luogo in cui poter realizzare se stessi e quindi un proprio bene e un bene comune perché il bene di ciascuno dipende dalla realizzazione di beni più grandi che riguardano tutti La gioia che provi quando riesci a fare qualcosa per il prossimo ti ripaga di tutti i sacrifici anche personali che la politica ti impone ad esempio quello di sottrarre spazio alla propria famiglia e alla propria vita privata però ribadisco ne è valsa la pena Un consiglio pratico per un giovane? Ecco, il suggerimento che darei è quello di andare ai consigli comunali parlare del proprio territorio della propria comunità delle cose che si fanno delle difficoltà che ci sono per poter poi formulare un giudizio anche più consapevole e chissà che qualcuno magari non si appassioni e poi insomma si avvicini e domani possa ricoprire ruoli di rappresentanza come io ho avuto la fortuna di fare insomma Cosa hai imparato ad alcuni mesi dalla tua elezione in Consiglio Comune? Le cose che ho imparato in realtà sono tante e sia anche prima della mia elezione perché ho imparato cosa vuol dire fare una campagna elettorale cosa vuol dire partecipare poi il giorno delle elezioni e poi tutto il processo che c'è dopo l'insediamento del Consiglio le regole di un Consiglio Comunale e soprattutto la conoscenza di una macchina comunale è un bel compito sto imparando a fare questo compito al meglio diciamo l'incontro con l'altro la possibilità di entrare nelle storie nelle vite di cercare di trovare le risorse nostre loro per risolvere i problemi è stata una cosa nutriente una cosa arricchente faticosa ma sicuramente arricchente credo di aver guadagnato di più di quel codante a un giovane che cosa consiglia oggi che volesse davvero mettere le mani in pasta per il bene degli altri di occuparsi degli altri a tutto campo e ragazzi sono invitati a riprendere i contenuti della serata nel corso di un laboratorio che si terrà il primo di marzo venerdì sempre a Lavagna alle 20.45 Telepace trasmetterà la registrazione dell'incontro domani sera alle 21.10 al canale 15 su Telepace 1 è stato approvato dalla giunta regionale il bando proposto dall'assessore all'agricoltura Stefano Mai che prevede 4,8 milioni di euro a supporto degli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione e movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste come spiega l'assessore il bando che rientra nel programma di sviluppo rurale si aprirà il 27 di febbraio per chiudersi l'8 maggio punta a sostenere un'ampia fascia di beneficiari tramite interventi di vario tipo le imprese potranno attingere fino a 200 mila euro per investimenti in attrezzature e macchinari oltre alle piccole e medie imprese al bando potranno accedere anche i comuni e i soggetti privati che posseggono o gestiscono aree forestali voltiamo pagina la rete dei servizi territoriali ed ospedalieri dell'ASL4 per l'accompagnamento nella gravidanza e nella nascita di un figlio è stata presentata questa mattina nel corso di un convegno dal titolo Essere Donna Nascere Mamma sentiamo il progetto dell'ASL4 per la prevenzione e la diagnosi precoce della depressione postpartum è portato avanti assieme dal dipartimento materno infantile e dal dipartimento salute mentale attraverso le varie professionalità il gruppo di lavoro ha avviato una procedura che prevede la somministrazione di un questionario nel secondo trimestre di gravidanza per scovare i segnali della depressione abbiamo aperto il vaso di Pandora nel senso che abbiamo scoperto un territorio inesplorato nel senso che io non mi aspettavo che ci fossero così tanti problemi nelle donne nella famiglia nelle coppie eccetera e quindi anche contenerli non è stato facile poi la presenza delle psicologhe della rete del parlarci è servito veramente ad aiutare le donne per il sostegno di qualsiasi cosa e anche capire meglio le donne in generale e ad avere un altro linguaggio importante la rete territoriale il percorso nascita dell'asle 4 prevede un accompagnamento fin dall'inizio di una gravidanza all'interno dei consultori il che garantisce anche una continuità con l'ospedale fondamentale non solo nel percorso di avvicinamento al parto nella gravidanza fisiologica ma anche nel periodo post nascita accanto a questo poi abbiamo anche delle prese in carico individuali della psicologa per quello che riguarda le situazioni di fragilità che non devono essere per forza considerate solo come le situazioni di fragilità che dipendono dallo screening che è stato fatto per la depressione post parto ma possono essere delle situazioni di fragilità con meno implicazioni diciamo di rischio psicopatologico ma non per questo devono essere sottovalutate noi abbiamo un interscambio continuo e una rete di servizi che è il nostro punto di confronto con le altre istituzioni la maternità è la cosa più bella per una donna è il momento più interessante della vita e io spero che nessuna donna debba o pensi di dover rinunciare alla maternità per fattori esterni a lei la cronaca nella tarda serata di ieri un incendio boschivo ha interessato il Montefasce a Genova il ruogo ha distrutto circa un ettaro e mezzo di una zona privata sul posto 11 volontari del coordinamento di protezione civile e i vigili del fuoco l'incendio è stato domato dopo due ore di lavoro sia con acqua sia con attrezzature a mano e a motore le due persone di 25 e 41 anni entrambi residenti a Moconesi sono stati denunciati dai carabinieri di Chiavari i due dopo essersi introdotti all'interno di un'azienda agricola di Cicagna hanno portato via due ovini uccidendone uno e ferendone un altro una notizia di servizio prenderanno via martedì mattina a Chiavari i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria di via Prandina per questo dal lunedì 25 febbraio entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli nell'area interessata dal cantiere ovvero il tratto a monte di via Prandina via Aurelia nel tratto adiacente all'Aiola Sparti Trafico e Largo Moretti nel tratto prospicente Corso Genova il provvedimento resterà in vigore fino alla conclusione dei lavori andiamo a Sestri Levante festa questo pomeriggio per i due anni del mercatino del riuso aperto il 18 febbraio del 2016 in questo arco di tempo il centro di raccolta comunale è cresciuto sia nel numero di utenti che di oggetti e materiali recuperati i dati del 2018 evidenziano quasi 11.400 utenti che hanno prelevato un oggetto con un quantitativo di merci tolte dalla discarica di quasi 90.900 kg la cura degli oggetti custoditi è affidata ai volontari dell'associazione Sentieri a Levante vediamo come è andata della festa Nell'ultimo anno abbiamo avuto 10.000 accessi 10.000 persone oltre 90 tonnellate di materiali sottratte alla discarica e soprattutto è un'occasione oltre che di tutela ambientale anche dal punto di vista sociale un'occasione importante perché insomma il vestiario le attrezzature per i bambini sono tutti oggetti che magari le famiglie che hanno più difficoltà riescono a trovare a trovare in buono stato e quindi ad utilizzare per tutta la famiglia la parola d'ordine è comunque gratuità di questi servizi sì sicuramente un servizio gratuito dove possono conferire solo i cittadini di Sestre Levante ma possono ritirare tutti non solo i sestresi ma anche da altre località rimane un unicum in Liguria non ci sono altri centri di riuso in Liguria e penso anche uno dei più aperti ed utilizzati in tutta Italia quindi è davvero un grande orgoglio per tutti noi per il compleanno si amplia anche l'orario di fruibilità del centro sì abbiamo deciso di aprire anche un pomeriggio infrasettimanale che sarà il giovedì dalle 14 alle 17 un compleanno che è anche un momento di festa vissuto con i cittadini che in questi anni hanno usufruito di questo spazio sì è una bella cosa oggi è un compleanno che appunto ha coinvolto tutti i bambini a cui il messaggio ovviamente della differenziata è importante loro sono poi molto bravi a recepire le direttive quindi contiamo ovviamente che loro siano il nostro futuro e abbiano questa idea importante di differenziare i rifiuti prossimi obiettivi di questa realtà il sogno del cassetto è quello di ampliarlo vediamo se riusciamo sicuramente potremo il centro di uso in questo momento con tanti oggetti dentro è un po' sacrificato speriamo di ampliarlo davvero S.S. Levante Mediaterraneo Servizi organizza per lunedì 11 marzo un open day delle strutture operative di Palazzo Cambiaso convento dell'Annunziata Palazzo Fasce e la Biblioteca del Mare di Sestri Levante questo per far conoscere le modalità di gestione dei servizi affidati e fornire informazioni sulla propria organizzazione aziendale la giornata della trasparenza giunta alla quarta edizione è un'attività rivolta principalmente ai cittadini in cui sono illustrati i risultati raggiunti ed i successivi obiettivi adesso nella nostra scheda gli appuntamenti in agenda per la giornata di domani Appuntamenti in agenda per domenica 24 febbraio pedalata lungo il Golfo del Tiguglio da Sestri Levante a Santa Margherita Ligure a proporla è la FIAB Tiguglio Vivi in Bici il percorso è di 45 km su strada asfaltata il ritrovo alle 9 dalla sede FIAB di Viale Dante è aperta ancora un giorno dalle 10 alle 12 a Palazzo Ravaschieri la mostra Paesaggi di mare l'arte interpreta la riviera nell'ambito del progetto a scuola col museo i disegni esposti sono dei bambini delle scuole primarie seconda giornata a Chiavari per il mercatino dei sapori e delle tradizioni dalle 10 alle 20 specialità gastronomiche di varie regioni italiane in vendita nelle bancarelle di via Rivarola a Ne andrà in scena il carnevale dei bambini alle 14.30 nell'area del mercatino davanti al palazzo comunale spazio per animazione intrattenimento con giochi di prestigio baby dance e rottura della pentolaccia ad animare il pomeriggio il mago Joe alle 14.30 carnevale a Bogliasco quest'anno in stile 800 le maschere si ritroveranno nel piazzale delle scuole per il corteo sosta pentolaccia in zona club nautico e l'arrivo in piazza 26 aprile alle 16 alla residenza alle due palme di Sestri Levante il gruppo Folco Castello di Favale di Malvaro terrà un concerto di canzoni tipiche genovesi l'iniziativa è aperta a tutti alle 17 al teatro Massone di Pieve Alta per la rassegna Pieve Classica si esibirà la giapponese Yukiko Uno Giovane Talento del Violino accompagnata al pianoforte da Dario Bonuccelli l'ingresso è libero appuntamenti in agenda per lunedì 25 febbraio per i corsi di cultura di Chiavari alle 16 nella sala livellare di Via Del Pino Daniele Lazzarin affronterà il tema Cina letteraria la rivoluzione e la donna Cigni selvatici di Jung Chang e infine alle 16 a Villa Queirolo di Rapallo nuovo incontro dell'Accademia Culturale Dino Cofrancesco parlerà dell'Europa tra principio di nazionalità e progetti federali e da questa sera torna nei palinsesti televisivi di Telepace il programma di approfondimento storico e artistico dedicato al territorio del Tiguglio e non solo condotto da Francesca Marini Lo scrigno delle perle il titolo della rubrica inizierà il suo percorso dalla Basilica dei Fieschi di San Salvatore sarà in onda questa sera e ogni sabato alle 21.10 su Telepace 1 al Canale 15 vediamo un'anticipazione della puntata di questa sera Lo scrigno delle perle è il nuovo programma che avrà appunto un appuntamento settimanale e riguarderà la storia del nostro territorio ma con delle particolarità saranno non soltanto o perlomeno non saranno interviste ma immagini documentari legati alla nostra storia e alla nostra vita passata e presente in diverse zone del nostro territorio nel Levante, Ligure e non solo la particolarità è che questa volta questo programma sarà un insieme di quadri di argomenti diversi sottolineati appunto da una dicitura e sarà molto importante la musica le immagini saranno accompagnate da una scelta musicale perché ciascuno di noi possa godere della bellezza sia delle immagini dei nostri posti e anche delle musiche che si adattano all'argomento cominceremo con la basilica di San Salvatore dei Fieschi per spaziare poi di settimana in settimana su tutto il nostro territorio C'è un aggiornamento di cronaca incidente questo pomeriggio in località Maggi di San Colombano Certenoli un uomo di circa 70 anni intorno alle 15 mentre stava lavorando nel suo terreno ha perso l'equilibrio ed ha compiuto un volo di 6 metri finendo sulla strada subito il soccorso dei medici del 118 e è stato trasferito in elicottero in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova e per lo sport si è giocato l'ultima giornata di andata del girone di andata appunto del campionato di palanuoto di A2 maschile il Lavagna 90 ospitava in casa la sportiva Sturla è finito 10 a 6 la vittoria del Lavagna 90 che conferma così la sua posizione in classifica in piena zona playoff prossimo turno sarà la sosta con il campionato che riprenderà poi a Sori contro la partita del Lavagna 90 contro il Sori e parliamo di Bocce intenso match di Serie A oggi a Chiavari la bocciofila chiavarese ha battuto 15 a 11 il 90 la sconfitta avrebbe complicato il cammino dei chiavaresi che avrebbero visto riaprirsi le porte della Serie B sebbene manchino ancora 4 partite alla fine 3 delle quali considerate proibitive da allenatore e presidente invece con i due punti conquistati questo pomeriggio la bocciofila si è portata a un punto dalla terza ultima che è proprio il 90 posizione buona per potersi giocare i play out e vediamo proprio le immagini del incontro che si è disputato questo pomeriggio a Chiavari con lo sport si conclude questa edizione di Etigulli oggi l'informazione ritorna lunedì mattina alle 7.30 con la nostra rassegna stampa continua sul nostro sito internet teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News grazie per essere stati con noi buon proseguimento di serata e buona domenica Grazie a tutti